Oroscopo del giorno, sabato 9 ottobre 2021 Ariete Amore Venere è in posizione eccellente, in questa giornata non ci sarà nulla da temere, potrete lasciare libere le vostre emozioni. Questo cielo potrebbe essere incoraggiante pure per i single che vogliono fare degli incontri interessanti. Lavoro Il sabato professionale sarà un giorno abbastanza tranquillo, ma gli impegni non mancheranno. Toro Amore Sabato ricco di tensioni per voi e per tutti i rapporti. Purtroppo la luna sarà sfavorevole e questo vuol dire che lo stato d'animo sarà molto basso e nervoso. Anche i cuori solitari potrebbero essere un po' agitati oggi. Lavoro La serenità sicuramente non arriverà neanche in ufficio. Occhio a non arrabbiarvi troppo. Gemelli Amore Non sarà una delle giornate migliori del mese, visto che Venere sarà in opposizione. Attenzione, perché domani le cose potrebbero complicarsi pericolosamente. Oggi comunque potrebbero esserci scontri e discussioni. Lavoro Per il lavoro potrebbe esserci maggiore tranquillità. Bene così, non dovrete perdere occasioni per impegnarvi. Cancro Amore Giornata tranquilla. D'altronde, per molti, i giorni particolarmente emozionanti sono già passati. Non ci sarà però da lamentarsi, perché potrete godervi il weekend con il partner o con una nuova conoscenza senza problemi. Lavoro Bellissimo il sabato professionale. Aspettatevi una novità, un qualcosa di veramente buono per il percorso lavorativo. Leone Amore Sabato poco incoraggiante, ma non terribile. In questa giornata di ottobre, il rapporto d'amore non subirà grandi cambiamenti e non ci saranno passi in avanti o momenti di crisi insuperabile. I single potranno attendere domani per le novità. Lavoro Problemi in ufficio con i colleghi? Potreste ritrovarvi nei guai per qualcosa, per un progetto. Vergine Amore Un sabato veramente difficile per voi. Aspettatevi dei problemi con il partner o con una nuova persona se siete single. Purtroppo Venere sarà in posizione contraria e non vi favorirà per niente. State attenti. Lavoro Giornata poco entusiasmante pure sul lavoro, perché non arriveranno troppi risultati o novità. Bilancia Amore Abbastanza buona la posizione di Venere per questo giorno di fine settimana. Tra un momento tranquillo, eppure per molti potrebbe rivelarsi una giornata parecchio fortunata. Le emozioni non mancheranno per nessuno. Lavoro Energia al top anche per oggi. Mercurio e Marte vi sosterranno davvero alla grande. Scorpione Amore Un sabato senza troppe emozioni speciali. Forse vorreste provare qualcosa di più intenso e coinvolgente, ma non sembra proprio il momento adatto. Venere non sarà vostra amica e quindi vi toccherà attendere la prossima settimana per ricevere qualcosa in più. Lavoro Meglio sul posto di lavoro, perché questo sarà un giorno parecchio fortunato. Infatti potrebbe arrivare una novità molto importante. Tagitario Amore Emozioni al top per questo sabato di ottobre. Sarà un giorno da ricordare per tante coppie e domani potrebbe arrivare la ciliegina sulla torta. La giornata sarà molto bella, anche per tutti i quali liberi da impegni sentimentali. Lavoro Oggi le stelle dovrebbero sostenervi pure sul fronte degli impegni e dei progetti professionali. Davvero un buon weekend. Capricorno Amore Non sarà una giornata troppo entusiasmante o piena di belle emozioni per l'amore. Calma e sangue freddo per i rapporti e per lo stato d'animo. La settimana prossima potrebbe essere migliore, almeno rispetto a questo weekend. Lavoro Difficile anche la giornata lavorativa. Potrebbero esserci problemi e scogli da dover affrontare e superare. Acquario Amore Venere sarà in buona posizione e potrete trascorrere un bel sabato insieme al partner, alla persona che amate. Potrebbe essere un giorno positivo pure per chi è solo e ha intenzione di fare dei nuovi incontri. Lavoro Bene sul lavoro. Tutto proseguirà senza troppi disagi o rallentamenti. Impegno e costanza non dovranno mancare. Pesci Amore Questo sabato potrebbe essere difficile, soprattutto a causa di litigi e scontri con il partner o una persona nuova. Le stelle non vi stanno aiutando ultimamente e domani sarà una giornata ancora più complicata. Lavoro Per fortuna potrete contare su un bel sabato professionale. Dovrete concentrarvi su quello per ottenere qualcosa oggi. Se il video ti è piaciuto metti mi piace, registrati al canale e clicca la campanella per ricevere tutti gli aggiornamenti. Per fortuna potrebbe essere un bel sabato professionale.